Ciao ragazzi, dunque sono al lavoro, Juventus batte Sampdoria 1-0, campionato primavera 1, prima partita del torneo Tanti spunti interessanti Allora, intanto possiamo dire che la Juve è una squadra nuova e questo si è visto, nel senso che Appare, ha cambiato tutto, allenatore, giocatori, che giustamente hanno raggiunto il limite massimo di età per giocare in questa categoria Quindi sono andato a giocare nell'Under 23 Diciamo che l'Under 19, cioè la primavera della Juve, è apparsa un pochino, come posso dire, sfilacciata, ancora non compatta Ma credo che sia una cosa alla fine normale, perché non riesci a compattare una squadra in pochissime settimane Credo che ci sarà il tempo per farlo Era importante vincerla, perché comunque la Sampdoria è un'ottima squadra, non è una squadra da sottovalutare E alla fine poi, se andiamo a vedere, la Juve è riuscita a vincere 1-0 La rete è stata decisiva quella di Elia Petrelli, giocatore che secondo me farà molto bene quest'anno Anche perché ha fatto bene in qualsiasi categoria giocato E ricordo soprattutto la splendida Futur Cup che ha fatto ad Amsterdam l'anno scorso Con gli Under 17 E niente Adesso vediamo come andrà la stagione, sicuramente delle cose interessanti Molto positivo Moreno Che ancora deve capire come giocare in Italia Ma quando comincerà a capire come giocare in Italia Credo che sarà un problema per i marcatori Perché è un giocatore dalla classe enorme E molto buono anche l'inserimento di Makoon Anche se bisogna anche essere sinceri nel dire che Makoon ha giocato poco Non ha toccato tanti palloni Ma si vede subito che è un giocatore di esperienza internazionale Diversa dagli altri compagni di squadra Sono contento di come ha giocato primavera Poi, ripeto, l'ho già detto La Sampdoria ha avuto due o tre occasioni per pareggiare la partita E probabilmente poteva anche starci il pareggio alla fine Non sarebbe stato uno scandalo Per quello dico che per essere la prima del campionato L'importante alla fine era portare a casa i tre punti Anche perché la Sampdoria è una buona squadra Non è da sottovalutare Dunque, migliore in campo Per quanto mi riguarda La Palma la do a Moreno Non do neanche un peggiore Anche perché alla fine la partita la si è vinta E mi sembra che non ci sia un giocatore sotto le righe Ecco A me non resta a questo punto che salutarvi Augurarvi una buona giornata E darvi appuntamento con i prossimi video Ciao Ciao